Una conferenza di servizi istruttoria per riqualificare la Galleria Vittorio Emanuele di Messina, bene architettonico nel cuore di Messina ma non nel cuore dei messinesi, visto che nonostante il recente restauro è nuovamente deturpata e vandalizzata. La proposta di dettare nuove regole per la tutela della suggestiva struttura storica e dei consiglieri comunali Nina Lopresti e Santi Zuccarello, un percorso condiviso da varie associazioni e dai commercianti che operano all'interno della Galleria. Il nostro intento è quello di mettere assieme finalmente tutti i soggetti coinvolti nella Galleria e riuscire attraverso questa conferenza di servizi istruttoria, insieme anche alla parte politica, quindi all'amministrazione attiva, agli assessori coinvolti, gli assessori a ramo, riuscire a redigere finalmente un regolamento che ne disciplini l'uso dei locali all'interno, quindi che all'interno ci siano attività commerciali o attività di ristorazione che siano compatibili con la Galleria e che di fatto se riuniti in associazione potrebbero anche occuparsi della manutenzione ordinaria, della gestione degli orari di apertura e di chiusura e non ultimo, ma anzi questo è di fatto la parte iniziale del nostro intervento, che è quello di trovare forme di finanziamento alternative a quella pubblica per riqualificare il sito. È chiaro che la riqualificazione, se contestualmente non provvediamo a una regolamentazione, diventa vana. Galleria Vittorio Emanuele, nel centro della città di Messina. Potrebbe essere questa struttura un'attrazione, soprattutto per i turisti, ma non è così. Interventi di restauro sono stati già eseguiti nel recente passato, quando a Palazzo Zanca il direttore generale, l'allora city manager, era Gianfranco Scoglio, ma è bastato lasciarla nuovamente nelle mani dei messinesi per trasformarla ancora una volta in un luogo indecente. Del resto le immagini sono una testimonianza lampante. Il degrado si è nuovamente impossessato del palazzo realizzato tra il 1924 e il 1929 dall'architetto Carmelo Puglisi Allegra. 600.000 euro la cifra è impiegata da Palazzo Zanca per un progetto del 1999 ed ultimato nel 2005. Il resto a carico dei privati, proprietari degli appartamenti che si affacciano all'interno della galleria. Le pareti imbrattate non sono un bel segnale. Questa è la dimostrazione che non esiste un sistema di controllo. Che fine ha fatto la videosorveglianza collegata con la centrale operativa della Polizia Municipale? Adesso si torna a parlare della galleria Vittorio Emanuele e si riaccendono i riflettori su ciò che potrebbe rappresentare, in termini di sviluppo economico, questo luogo per la città. Le saracinesche abbassate poi ricordano che un tempo, ormai lontano, la galleria era sede di numerose attività commerciali. Nel 2012 l'Ordine degli Archidetti ha sollecitato una serie di iniziative finalizzate alla promozione del sito, senza però alcun successo ed alcuna risposta da parte delle istituzioni. La galleria di Piazza Antonello è l'ennesimo luogo simbolo di una città che mostra di non essere in grado di tutelare i beni comuni.